Grazie Grazie Sì, è vero. Sì, 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 sì. Oh! ma che costa? ah si è preso lui da pallavattissimo ma qui me la fio dopo mi ricordo la pallavattissima ce l'è ancora? ah ma è questo che c'è non mi sembra semmeno lo uso un po' di cattiglione Grazie a tutti.